La Mindfulness tecnica di presenza per una scuola verso il digitale. Mindfulness, una pratica molto rilassante, che tramite esercizi di presenza aiuta ad assaporare i momenti della giornata. Questa tecnica può essere appresa fin da piccoli. Infatti molte scuole estere ed alcune italiane, con metodi pedagogici alternativi, la insegnano agli alunni. Ma perché dedicargli un'ora di lezione giornalmente? Perché i bambini necessitano di un'ora di concentrazione o d'almeno di un'ora per focalizzare l'attenzione su quello che stanno facendo. Per imparare ad assaporare il momento che stanno vivendo. E penso, che questo periodo storico necessiti maggiormente, di tecniche come la Mindfulness. Molte persone per l'eccessivo stress, danno la responsabilità alla tecnologia. Ma sia ben chiaro, è solo un espediente. Per rimbalzare la responsabilità a qualcos'altro. Quante volte anche in assenza di telefonini, pc o d'altro. Si sentiva dire dai genitori, muoviti, dai stiamo facendo tardi, sbrigati. Ecco anche queste frasi ed atteggiamenti non fanno apprezzare il momento e possono stressare. Poi con l'avvento della tecnologia, tutto si è ampliato. Ma l'essere umano, ha innata la capacità di mettersi fritta da solo senza gustarsi il momento. Ed io spero che un'ora di Mindfulness giornaliera possa aiutare i ragazzi a dire stop. Devo staccare per un po' il cervello e godermi l'attività che svolgo. Ecco, cosa spero che accada, che si insegni ai ragazzi, un modo per trovare giornalmente momenti per caricarsi. Se interessati, potete scaricare sul Google Play Store l'applicazione Mindfulness che presenta suoni rilassanti.